i vaccini agli over 80, la regione invoca rapidità nelle forniture. Massimiliano Amadori è il nuovo capo di gabinetto del sindaco Matteo Ricci. Fondo anticrisi del comune, partite le domande per contributi agli affidi. Calcio, crisi vis, gioiafano, l'alma supera i biancorossi. Grazie a tutti. Ben ritrovati a Rossini News, il nostro telegiornale della sera, telegiornale di lunedì 22 febbraio che apriamo con la terza giornata dedicata ai vaccini agli over 80. Una terza giornata in cui avanzano a centinaia al giorno gli over 80 pesaresi che si sottopongono alla profilassia anti-covid, ma non mancano i timori della regione sulla lentezza nei rifornimenti delle fiale. Vediamo il servizio con alcune interviste ai primi vaccinati. A Pesaro, 672 persone di età superiore agli 80 anni si sono vaccinate sabato nella prima giornata di profilassia anti-covid. Altri 672 riceveranno domani le personali dosi di Pfizer e Moderna e altrettanti lo faranno dopodomani. Insomma, continua la fase di immunizzazione della al centro sociale Monaldi della Celletta. Lo stesso dicasi per Fano e Urbino dove si viaggia a circa 340 vaccinati al giorno in ogni sede. Velocità di vaccinazione che però non viaggia di pari passo alla velocità di forniture dei vaccini. L'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini ha lamentato infatti una disponibilità di fiale che va ancora troppo a rilento, paventando anche l'idea di un acquisto dei flaconi in proprio da parte della regione. Intanto ci si consola con la risposta massiccia della popolazione alla chiamata al vaccino. Tutto bene, benissimo. Molto gentili, sono stati bravi, una dottoressa molto gentile, brava, molto. Anche un messaggio per chi è ancora un po' titubante. No, lo devono fare, specialmente noi che abbiamo una certa età, abbiamo i nipoti, abbiamo tutto, è meglio farlo. La scelta di fare il vaccino è una scelta che facciano tutti. Speriamo vengano i vaccini. Noi siamo stati fortunati di essere tra i primi. Tutto ok, nessun problema. Com'è andata la prassi? Come ci è voluta? Molto efficiente, veramente poca attesa, molta gentilezza, un bel servizio. È un passo in più, da stare un pochino più tranquilli, ma la sicurezza ancora non c'è. Io ancora ho 56 anni, quindi ho accompagnato mio padre di 83 a fare la vaccinazione. La scelta di subito il primo giorno? Attendeva con ansia il potersi prenotare per poter fare la vaccinazione, perché pensiamo tutti a casa che sia una cosa indispensabile per fermare questa cosa qua. Oggi ho accompagnato mio nonno insieme a un altro mio cugino, Nicolò. Ha superato da poco gli 80 anni, però lui comunque si ha molta paura del coronavirus. Va riuscito adesso, quindi voleva fare questo vaccino a tutti i costi, perché comunque aveva paura anche quando eravamo insieme a lui, stava sempre lontano, sempre con la mascherina, anche magari in macchina, sempre con la mascherina, perché ha una gran paura e adesso spero che gli sia un po' diminuita questa paura. Ci tenevo tanto a farlo che sono riuscito, quindi sono contento, sono contento di averlo fatto. Adesso devo fare il richiamo al 13, quindi speriamo che vada tutto bene, è quello che volevo. Come abitudine di ogni domenica che ci lasciamo alle spalle, sono stati pochi i tamponi processati nell'odierno report del Servizio Sanitario Regionale. Precisamente 1.047 tamponi, di cui 524 nel percorso nuove diagnosi. I positivi sono 117, di cui 69 in provincia di Ancona. Soltanto 7 quelli in provincia di Pesaro e Urbino. Intanto però non si abbassa il numero dei ricoveri sono 621 nelle Marche, di cui 78 quelli in terapia intensiva. Nella giornata di ieri si sono registrati anche 11 decessi di persone contagiate da Covid-19. In risposta ad alcune polemiche dei giorni scorsi, il sindaco di Fossombrone, Gabriele Bonci, ha voluto fare il punto sul finanziamento della sanità locale, illustrando una serie di novità riguardanti l'ospedale forsempronese. Vediamo il servizio di Simone Celli. La sanità è da sempre un nodo centrale per chi amministra un territorio. Figuriamoci in epoca Covid. La pandemia ha infatti messo a nudo pregi e difetti dell'intero sistema sanitario, acuendo talvolta anche le polemiche. Come quelle a cui ha voluto replicare il sindaco di Fossombrone, Gabriele Bonci. Dal laboratorio analisi agli ambulatori di cardiologia e ortopedia fino alla chirurgia ambulatoriale. Sono tanti gli aspetti su cui il primo cittadino ha sentito il bisogno di fare chiarezza. E' stata evidenziata sui social, sui giornali, una serie di carenze qui nel nostro ospedale di comunità, come se fossero nate ieri. In realtà sono problematiche a noi già ben note, perché alcune sono iniziate già diverso tempo fa e si sono acuite durante la pandemia. Noi abbiamo fatto una serie di incontri, grazie anche ai consiglieri regionali che ci hanno aiutato in questa opera diplomatica, diciamo così, abbiamo cercato di portare avanti tutta una serie di iniziative per colmare le lacune che si erano via via create. E mi pare che i risultati siano soddisfacenti, in quanto il laboratorio analisi è ripreso a funzionare dopo una breve interruzione a causa della maternità dell'unico tecnico, che peraltro non ha generato tutto questo cataclismo nella popolazione, perché in realtà i perlievi sono stati tutti effettuati qui nel nostro punto perlievi. Però io ribadisco, l'attività è ripartita da poco, tra breve diventerà di nuovo operativo a tutti gli effetti. Così come gli ambulatori di cardiologia e ortopedia dopo qualche mese di interruzione stanno ripartendo, anzi la cardiologia è già ripartita con più sedute di quanto ne avessero prima, l'ortopedia ripartirà breve almeno una volta a settimana. Altre cose importanti a mio avviso che si stanno concretizzando sempre con l'appesantimento e la lentezza accentuati dalla pandemia è il fatto che adesso dal primo di marzo a Fossomrone verrà trasferita tutta l'attività della chirurgia ambulatoriale di Urbino per almeno otto mesi, che si va a sommare a quella che c'era già presente. Questa è una cosa provvisoria, però è una cosa che da comunque risalto e importanza alla nostra struttura e che è permessa dal fatto che la nostra struttura è interamente privata, cosa che noi abbiamo portato avanti in questi anni cercando di difenderlo, diciamo così, dalle intromissioni private. Così come a breve relativamente dovrebbe diventare il centro unico provinciale per la tossicologia, citologia e acqua da dialisi, l'acetologia già l'abbiamo, la tossicologia è questo momento appeso all'acqua da dialisi a Urbania, ci sono già atti propedeutici al trasferimento a Fossomrone, anche questi sono servizi che magari non risolvono il problema della sanità di Fossomrone, che sappiamo bene quali siano altri, la necessità di posti letto ospedalieri, di un punto di primo intervento, però sono servizi che comunque rafforzano e danno importanza e solidità alla struttura di Fossomrone. Tante dunque le novità che riguardano l'ospedale di comunità di Fossomrone. A sostegno del sindaco Bonci anche alcuni consiglieri regionali e lo stesso comitato locale. A volte si fa fatica a prendere lezioni da tutti quelli che hanno potuto per 25 anni gestire la sanità pubblica e sono riusciti a desertificarla totalmente. Questo è uno di quei casi. Fossomrone è un ospedale che merita dignità, che merita rispetto, è un ospedale che ha una valenza molto importante nel territorio perché serve più o meno 30-35 mila persone, necessita assolutamente di investimenti economici e di investimenti di personale, bisogna riportare qui servizi importanti. Da quando sono stata eletta in consiglio regionale ho avuto un rapporto costante con il sindaco di Fossomrone, Gabriele Bonci, che in tutti questi anni si è veramente speso per il potenziamento dell'ospedale di Fossomrone. Quindi è mia intenzione, appena finita la pandemia, di collaborare per la stesura del nuovo piano sociosanitario, soprattutto per portare in porto quello che è stata la nostra promessa in campagna elettorale, cioè il potenziamento delle strutture minori del territorio. Siamo riusciti con chi di dovere, in poche parole, a portare a compimento queste problematiche che c'erano nell'ospedale di Fossomrone. Chiaramente la pandemia ha inciso e sta incidendo in modo abbastanza pesante per quanto riguarda i servizi sanitari e quant'altro, questo noi lo sapevamo, però abbiamo cercato sempre di ottemperare alle situazioni e all'emergente e con le donazioni e quant'altro siamo riusciti anche a ottemperarle su delle carenze che erano ormai strutturali. E in questi giorni Rossini TV ha spesso trattato l'imminente saluto di Franco Arceci dal suo ruolo di capo di gabinetto del sindaco Matteo Ricci. Intervistato prima da Rossini News e questa mattina nel salotto di casa Rossini, ospite del nostro Paolo Pagnini, Arceci ha vissuto oggi in comune un simbolico passaggio di consegne al nuovo capo di gabinetto al quale resterà affiancato per un anno. Vediamo chi è questo nuovo capo di gabinetto nel nostro prossimo servizio. Dopo 24 ore di suspense non voluta per una conferenza stampa convocata dal sindaco di Pesero Matteo Ricci senza rilevare l'argomento dell'appuntamento è arrivata l'investitura del nuovo capo di gabinetto del primo cittadino. Si tratta di Massimiliano Amadori, attuale capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale scelto direttamente da Ricci. Sono molto emozionato, un incarico importante perché credo sostituire una persona come Franco Arceci in questo momento sia impossibile, però c'è tutta la volontà e la passione per provarci. È stato un anno molto formativo, credo che siamo riusciti ad ottenere il massimo, un capogruppo credo che si debba occupare delle delibere e dell'unità della maggioranza. Abbiamo portato a casa tutte le delibere, è una maggioranza coesa, tutti quanti hanno dato il massimo e quindi penso che i risultati ci siano stati. Il nuovo capo di gabinetto lascerà il suo posto in Consiglio Comunale che sarà preso da Cinzia Ceccaroli, già consigliera nella precedente legislatura. Amadori sarà affiancato per un anno da Franco Arceci, capo di gabinetto uscente che, nonostante andrà in pensione, ha deciso di restare un altro anno in municipio da volontario, in forma del tutto gratuita. Il sindaco Ricci ha pubblicamente etichettato Arceci come il cristiano Ronaldo del comune di Pesaro, l'unico veramente insostituibile ed incensato con un pubblico encomio. Abbiamo deciso insieme col sindaco di proseguire almeno per un altro anno questa esperienza per cui farò lavoro volontario insieme con il sindaco e con la volontà di aiutare il nuovo capo di gabinetto ad assumere il meglio possibile questo ruolo e questa funzione. Il ruolo di capo di gabinetto è un ruolo che è molto vario e bisogna farlo interpretando le necessità dell'amministrazione comunale e del sindaco. Per cui, come dicevo prima, i ruoli principali sono raccordare la volontà politica con quella amministrativa e questo è un ruolo interno al comune. Poi c'è tutto il ruolo esterno, quello delle pubbliche relazioni, che sono relazioni col pubblico ma non sono pubbliche, con tutte le istituzioni per tenere i rapporti con l'amministrazione comunale, cosa complicatissima, molto varia e quindi su tutti i temi che riguardano l'amministrazione comunale. Poi all'interno di questi ci sono le specifiche cose che sono state fatte, realizzate, eccetera, però dico che il ruolo di capo di gabinetto è un ruolo che ti porta a lavorare a 365, sono i gradi, 365 gradi su tutti i temi dell'amministrazione comunale, quindi o in un modo o in un altro con maggiori risultati o con minori risultati, però quasi in ogni cosa dell'amministrazione comunale ci si sente coinvolti e si è coinvolti. Facile o difficile collaborare con questo sindaco? Per alcuni aspetti è facile, per altri invece è difficile perché è un sindaco molto esigente, soprattutto per quanto riguarda la velocità di esecuzione. Però questo è un problema che per me non esiste perché io ho oltre 4.000 numeri di telefono per cui in ogni momento so a chi telefonare, da chi farmi consigliare, da chi chiedere la risoluzione di un problema, quindi la mia velocità è massima e sono numeri che sono continuamente aggiornati proprio per poter svolgere bene questa funzione. A margine della conferenza di oggi il sindaco Matteo Ricci, così come il presidente della provincia Giuseppe Paolini, ha espresso cordoglio per la scomparsa a 78 anni di Massimo Cerescioli, padre dell'ex presidente della regione Marche, Luca Cerescioli. Massimo Cerescioli ha visto aggravarsi un complesso quadroclinico polmonare in seguito a contagio da Covid-19. Era ricoverato all'ospedale San Salvatore di Pesaro, dove è morto nella notte fra sabato e domenica. Da domani e fino a sabato 27 febbraio saranno in zona arancione 20 comuni della provincia anconetana su 47. Gli altri resteranno zona gialla, ma rimane in vigore il divieto di entrata e uscita nella provincia. Questa l'ordinanza emanata oggi dal presidente della regione Marche, Francesco Acquaroli, per limitare il numero consistente di contagi presenti in questo territorio. Fra i comuni confinati in zona arancione, la stessa Ancona, ma anche Falconara, Iesi, Senigaglia e Loreto. Il mancato rispetto delle norme anti-Covid ha portato la polizia locale di Pesaro a chiudere due locali nella serata di sabato. Si tratta di un bar di Via Mendola, dove sabato si sono sia verificati assembramenti di clienti, sia una somministrazione di bevande oltre l'orario consentito, cioè attorno alle 18.30. Il risultato sono stati una multa di 400 euro e la chiusura di un giorno per l'attività. Nello stesso sabato, in Via Cavour, in un emporio gestito da commercianti orientali, sono state ravvisate diverse irregolarità, compresa la somministrazione di bottiglie di alcolici poco prima delle 20. Qui la situazione è addirittura degenerata anche in una collutazione fra un cliente mal disposto ai controlli e gli stessi agenti di polizia. Situazione che è degenerata nell'arresto delle cliente per lesioni, oltraggio e resistenza pubblico ufficiale. Rapina questa mattina in Via Vincenzo Rossi in zona Pantano di Pesaro, quando attorno alle 10.30 un'anziana signora è stata derubata della borsa e di alcuni gioielli che indossava poco dopo essere scesa dalla sua automobile appena parcheggiata. La signora Asporto denuncia la questura. Nella nostra prossima edizione cercheremo di darvi maggiori raguagli su questa vicenda. Ed ora lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni che come sempre vi invitiamo a inviarci al numero whatsapp dedicato 370-366-7210, numero che potete vedere in sovraimpressione. Vi mostriamo oggi due foto che ci ha inviato un nostro telespettatore e che si riferiscono al nautofono, la sirena antinebbia in fondo al mollo di Levante di Pesaro che da diversi mesi giace di velta al suolo senza che nessuno intervenga al suo ripristino. A partire da oggi fino al 23 marzo è possibile fare domanda per i contributi comunali per spese d'affitto orate del mutuo prima casa. Tutto questo grazie al fondo anticrisi istituito dal comune di Pesaro per le famiglie con comprovate difficoltà economiche, un provvedimento che ci viene illustrato dall'assessore al bilancio Riccardo Pozzi. A partire da lunedì 22 febbraio sarà possibile fare domanda per il fondo anticrisi. Il fondo anticrisi quest'anno che prevede uno stanziamento molto importante, la prima volta che riusciamo a mettere una cifra così significativa sono 400 mila euro, proprio perché in un momento come questo di pandemia l'attenzione verso le situazioni di fragilità dei più deboli non devono mai venire meno. Quindi un lavoro che abbiamo condiviso con l'assessore alla solidarietà Sara Mengucci, con le parti sociali per individuare i criteri delle famiglie che potranno accedere a questo contributo, un contributo importante perché si parla dai 700 ai 1200 euro a secondo della composizione del nucleo familiare ed è concentrato sulle situazioni di disagio abitativo, quindi su quelle situazioni di coloro che oggi sono in difficoltà nel pagare l'affitto piuttosto che la rata del mutuo della prima casa. E quindi è rivolta proprio ad una platea se vogliamo anche più ampia, più larga rispetto alle famiglie solitamente in carico ai servizi sociali perché la fascia ISEE che abbiamo individuato è anche una fascia di ISEE diciamo importante, sono fino a 18 mila euro. Questo a seguito del lavoro appunto di concertazione anche con le parti sociali che ha cercato di individuare oggi quella possibile platea che sta subendo le conseguenze della pandemia. Quali quindi i criteri e come poter partecipare? Allora, i criteri bisogna occorre essere in una situazione appunto di affitto, quindi di locazione piuttosto che pagare la rata del mutuo della prima casa, occorre essere in una situazione di disoccupazione o di lavoro precario che è aggravata dalla pandemia, avere un ISEE inferiore ai 18 mila euro. Sarà possibile fare domanda come dicevo da lunedì 22 febbraio per un mese fino al 23 marzo e appunto il contributo sarà dai 700 ai 1.200 a seconda della composizione del nucleo familiare. E parliamo ora di Trauel Vacanze Esperienziali. Si tratta di una nuova formula di turismo che è stata presentata questo weekend alla celletta Country House di Coldelce. Rossini TV era presente al taglio del nastro di questo progetto dove Emanuela Rossi ha intervistato Roberto Arduini, uno dei cinque promotori di Trauel e anche il sindaco di Vallefoglia, Palmira Ucchielli. Io sono uno dei cinque promotori di questa iniziativa, gli altri promotori sono Giacomo Tomassi, Giovanni Tomassi, Giacomo Tamburini e Giuseppe Quercia. Ci siamo trovati per caso tutti con in mente un'idea di un futuro oltre questo momento di crisi in cui il business e il mondo del turismo è qualcosa di diverso da quello che abbiamo conosciuto fino ad ora. L'idea quindi è quella di puntare sull'esperienza, l'esperienza al centro della vacanza, quindi non più la vendita di luoghi ma la vendita di esperienze dove il luogo è un secondo aspetto rispetto all'esperienza. Tutti siamo innamorati di queste esperienze che condividiamo come ad esempio la ceramica, i colori naturali, il buon cibo, la cultura di questa bellissima regione e abbiamo pensato di mettere insieme tutta questa nostra passione per condividerla con il nostro pubblico. Oggi parte qui dalla celletta che è la prima struttura che appoggerà questa iniziativa la conferenza stampa in cui viene comunicato l'avvio di questa attività e per ora noi partiremo dalle Marche con un portale che si chiama Marche Travel nel quale potrete vedere e prenotare direttamente con tre clic tutte le nostre esperienze. Andando nel concreto le persone possono venire qui il venerdì, ripartire la domenica e in queste giornate fare delle vere e proprie esperienze. Di che tipo? Abbiamo individuato delle aree tematiche, le esperienze sono ad esempio la ricerca del tartufo, la ricerca del tartufo insieme a dei cercatori e insieme a loro si va a cercare il tartufo, si vive l'esperienza, l'esperienza è vera, è vissuta, quindi le scarpe si sporcano, si sta insieme a loro, poi quello che troviamo, se ne troviamo altrimenti viene acquistato da Travel, viene utilizzato per cucinare, quindi la sera si cucina qua con ciò che si è trovato, poi i cacciatori parleranno della loro vita, della loro esperienza, quindi del perché è stata fatta una scelta di vita e quindi questa è la base dell'esperienza, quindi proprio il vivere insieme, soprattutto con persone che sono appassionate, che hanno fatto di questa esperienza la loro scelta di vita. Per prenotare quindi la propria esperienza cosa bisogna fare? Per prenotare è molto semplice, bisogna andare nel nostro portale Market Travel e all'interno di questo portale ci sono tutte le varie esperienze e con tre clic è possibile prenotare fino a scegliere la camera. Gli ospiti di questa esperienza hanno a disposizione un pacchetto chiave in mano, in pratica dal venerdì pomeriggio fino alla domenica mattina è tutto compreso, quindi questo significa anche i trasporti, pranzi, cene, colazioni, tutto, quindi è massima trasparenza e massima chiarezza nella proposizione del nostro servizio. È una specie di paradiso terrestre questo, quindi qui insegnare, come avrebbe detto la mia povera nonna che è morta a cent'anni, come è fatto il mondo, come si fanno le tagliatelle, come si fa la legna, come si fa le potature, come è fatta tanta fauna selvatica che va dal lupo al capriolo, allo scoiartolo, a tutto quello che... e anche alle bellezze paesaggistiche, ambientali, che sono ancora integre come erano cent'anni fa. Poi qui si mangia da Dio. E concludiamo con lo sport come ogni lunedì. È stato un weekend senza Serie A di basket per la pausa dovuta agli impegni delle nazionali. Si è giocato invece nel campionato di calcio A5 dove l'Ital Service ha vinto la sua ottava partita consecutiva, così come è sceso in campo il calcio di Serie C. Gioia per il Fano continua invece a perdere la Vispesaro. Terza sconfitta consecutiva per la Vispesaro. Terza sconfitta in una settimana per i biancorossi caduti al Benelli sotto i colpi del Forte Perugia. È finita 0-1 con una rete di Juan nel primo tempo che ha fondato la Vis al quarto-ultimo posto, sempre più in zona play-out. Purtroppo la qualità oggi l'ha fatta la padrona. Loro sono stati bravi a sfruttare l'unico nostro errore, a crederci. In secondo tempo abbiamo cercato di mettere di portare una squadra importante, una squadra che ha speso tanto, una squadra che ha dei giocatori pazzeschi per la categoria. Alla fine Fulignati ha fatto il miracolo su Marchi, che non ci ha permesso di portare a casa un risultato positivo. Se la vi spiange, l'Alma Fano invece esulta. Splendida vittoria 2-0 a Mantua con le reti di Gentile e Ferrara nel secondo tempo e Granata che sorpassano la Vispesaro piazzandosi al quintultimo posto e vedendo sempre più concrete le possibilità di salvezza diretta. Credo che i ragazzi hanno fatto un'ottima gara. Avevamo tanta rabbia in corpo per quello che abbiamo lasciato pochi giorni fa e sono contento per loro perché si meritavano questa vittoria e credo che il campo abbia detto che è una vittoria meritata. Dal calcio al calcio a 5 continua a vincere l'Ital Service Pesaro che passa 6-2 a Matera in casa della signor Prestito. Doppietta di Cuzzolino, gol di Toni Dandele e Borruto e addirittura due reti del portiere Miarelli con altrettanti lob a porta sguarnita. E con lo sport si conclude questa nostra edizione del telegiornale di lunedì 22 febbraio. Prima di salutarci vi ricordiamo qualche appuntamento a cominciare dalla nostra prima serata. Oggi alle 21.15 un altro appuntamento con palcoscenico Marche. L'approfondimento di questa sera è dedicato alla Basilica Benedettina di San Lorenzo in campo. Vi ricordiamo anche che Rossini TV sta trasmettendo la settimana rossiniana. La settimana che porta al non compleanno di Rossini nato il 29 febbraio che quest'anno si svolge in edizione digitale come imposto dalle norme anti-Covid. Una settimana rossiniana della quale però si può godere costantemente su Rossini TV. Prossimo appuntamento mercoledì 24 febbraio alle 19 sul nostro canale 633 del Digitale Terrestre. L'appuntamento è con uno alla volta per carità storie di personaggi alla corte di Rossini. Ed è davvero tutto per questa nostra edizione del telegiornale Rossini News. Da parte mia e di tutta la redazione di Rossini TV un più cordiale saluto e una buona continuazione di serata con i programmi di Rossini TV.